No vabbè mi fischio il fallo, sto figlio di buona donna, sei un figlio di buona donna Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati sul canale Giochi Next Gen E oggi siamo qui con un nuovo episodio di PES 2016 con la solita Road to Division 1 Ragazzi questa è la mia formazione, voglio ringraziare come prima cosa potente Yugo Sensei per avermi dato consigli e suggerimenti Questa è la formazione visto che altra volta mi sono accorto che non ve l'avevo fatta vedere E' un 433 con le ali, godine e terri, la mole, basse, caleion, carmone, asturaro e in avanti abbiamo la ricci, nei mari e le vandoschi, punta centrale Ho lo spirito di squadra 65, ho iniziato subito di portarlo a 90 ma io essendo ACAB giocherò le ultime due partite della divisione online Con lo spirito di squadra fermo a 65, mi rimangono due partite e devo fare solo 3 punti per andare alla divisione 9 Per ora le ho perse tutte, quindi vediamo subito come va la prima partita e ci vediamo tra poco Ok ragazzi ecco ci vediamo giù alla prima partita e ci vediamo su il corso di Master Volete da nome come conto di italiano e volevo subitivitare che l'utente che li piace di Google Kenziei e non sia sei come avevo veramente detto E' subito Robert Non mi ferma subito Proprio per filipparlo sulle fasce Uh subito tiro e devo passare più in un tiro però non pericoloso Va Ok Niamo dentro guardi troppo Non era rigore a poi allo ragazzi Mi sono andato a spure Nooo Nooo Noo ragazzi 1-0 con l'avversario Nooo Mamma mia Oh Mi posso garantire ragazzi che è veramente più indirizzata di quello che può sembrare le sue il classico io ora punti di postura no vabbè ragazzi ma come fa a saperlo che tipo bravo ragazzi no ma perchè mamma mia ragazzi più di te con i mondi spiegare io vorrei rimanere tranquillo ma come faccio ragazzi come faccio a rimanere tranquillo vedendo sto scandalo di squadra uno scandalo di squadra ragazzi uno scandalo cioè dobbiamo recuperare invece va a vedere che dobbiamo aria no vabbè ragazzi c'è ragazzi ma non si può ragazzi c'è ha preso il palo è ritratto sui suoi piedi non si può ragazzi non si può ragazzi così non si può ragazzi così non si può troppo giocare così non posso troppo giocare di sì rosa a 5 minuti davanti per tutto quello che hanno e almeno uscire con la maniera e ma mai se non è il cinema dentro ma a chi la passi nei maracchi o arbitro un buon no vabbè mi fischio il pallo sto figlio di buona donna sei un figlio di buona donna ragazzi stanno facendo come vuole ormai adesso se riesco almeno un gol vai dai dai ma vaffanculo va levandoskin se lo so ragazzi devo per segnare tira tira prova vediamo l'amma tiro madonna mia robert quasi gol dai dai ma perché levandoski dai vediamo se riusciamo a fare qualcosa di più grande Neymar Neymar ancora Neymar è uscito 2 a 1 2 a 1 grandissimo gol di Neymar ragazzi acconciamo le distanze ma è l'ottanta settesimo spero di farcela è potentissima sta perdendo tempo sta perdendo tempo tiro fuori e finisce qui ragazzi ho perso la prima partita 2 a 1 ma nell'ultimo quarto d'ora ho dato il fastidio all'avversario quindi quel risultato 2 a 1 dimostra che piano piano sto migliorando e sto iniziando a familiarizzare anche con i tasti comunque ragazzi ci vediamo fra poco con la seconda partita ok ragazzi eccoci qui tornati con la seconda e ultima partita sia del video che della divisione 10 provo a vincere tra le divisione 9 altrimenti ripartirò della divisione 10 ragazzi comunque ho fatto un po' di esperienza anche questa partita giocatore ha subito ha subito Odebas attenzione Neymar solo Neymar oh come ha fatto prenderlo tiro e le alba senza tanti problemi ho parato le alba attenzione ragazzi attenzione attenzione perchè non gli infischi a palli ragazzi ma perchè non gli infischi a palli attenzione e vado a chi tira ma perchè sei lento come un un bravico perchè sei lento come un bravico perchè sei lento come un bravico ma che fai ragazzi ragazzo super perderò vent'anni vicino questo gioco ve lo dico vedo vent'anni ottimo passaggio deve tirare bravo no 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 troppo pericolo troppo no pensavo peggio ragazzi pensavo peggio ci manca osservato pericolo 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 con la complicità del solito lato giusto sui suddentore vado ma non mi hanno anticipato di pochissimo neymar quindi magari ragazzi questa partita pericolo vedrete veramente poco pericolo ma non perchè ho tagliato ma perchè c'è veramente poco da vedere aspetta no era pure il gioco porca miseria stavo già per esputare ragazzi se segniamo l'89 con un gol del genere sarebbe penso esploso il mondo è finita ragazzi finita 0-0 0-0 ragazzi allora ho fatto un punto me ne bastavano 3 in tutta la stagione mi piace niente quindi vedrete comunque ho fatto 5 tiri io e 3 lui quindi quest'oltre sono andato un pochino no scusate 5 tiri lui e 3 io quindi è andato un pochino meglio però comunque piano piano sono iniziato a fare di mistichezza con i tasti di pass sia del jazz che proprio del gioco e quindi niente ripartirò dalla decima divisione nelle prossime due partite cercando questa volta invece di di superare velocemente la decima divisione sperando di andare subito nella luna che ragazzi spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia divertito se è così mi raccomando fatemelo sapere lasciatemi come sempre un like commentate se avete altri consigli a darmi come ha fatto appunto l'utente che saluto il kokensei condividete il video se non avete fatto un miracolo iscrittevi al canale e ci vediamo con il prossimo episodio di PES 2016 qui non c'è un nero 83 è tutto bella